E' stato veramente emozionante perché lui ha capito subito la mia missione e io ho dato lui una maschera che non uso più per il semplice fatto come segnale io ho detto che io attraverso quegli occhi giornalmente vedo sofferenza e di pregare per questi bambini e per le loro famiglie che ne hanno tantissimo bisogno. Sì, io ovviamente cerco di entrare nel costume mi alleno giornalmente cerco di tenere una forma fisica e per dare ancora più bellezza al personaggio creato e far sì che agli occhi dei bambini sia ancora più vero di quello che sembra. C'è la cara di finire qua, ti aspetto giù e la fare spedermano a me col telefonino e gli faccio una roba Se la sei tolta la maschera, no?